Indipendente e fermamente nei banchi dell'opposizione e quanto sottolinea la consigliera comunale Isabella Mangino che come annunciato nell'assise del 29 gennaio ha lasciato il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia dichiarandosi indipendente. Una decisione dettata dalle ormai insanabili divergenze con il partito. Ho maturato la decisione già da tempo per cui ho ritenuto opportuno comunicarlo nello scorso consiglio comunale in quanto c'era una mancata condivisione alle idee politiche del partito di Fratelli d'Italia qui a Ponte Gagnano e quindi ho ritenuto di dichiararmi libera e indipendente di rimanere sempre tra i banchi dell'opposizione. Qualcuno ha parlato di un suo possibile passaggio alla Lega oppure addirittura alla maggioranza? Che cosa risponde a queste voci? Ribadisco di nuovo che non c'è nessun passaggio né alla maggioranza e intanto meno nella Lega. Resto ferma tra i banchi dell'opposizione e sempre libera e indipendente. Dov'è che si è consumata la rottura con il partito Fratelli d'Italia? In effetti era già da due o tre mesi che non c'era un confronto, non c'era un dialogo, non avevo nessun punto di riferimento. Per cui ritenendomi già sola da due o tre mesi ho ritenuto opportuno anche da questo punto di vista di chiarmi libera e indipendente. Quindi decidere di continuare a fare il mio percorso politico da sola. Ovviamente rimarrà anche Presidente della Commissione Trasparenza. Certamente rimarrò sempre Presidente della Commissione sulla trasparenza che tra l'altro circa 15 giorni abbiamo lasciato in quanto siamo stati impegnati con conferenze di capigruppe, però riprenderò già dalla prossima settimana perché abbiamo lasciato un po' sospeso e un paio di lavori. Grazie.